In seguito a furti ed altri problemi di sicurezza, all'ospedale Serrestore di Figline Valdarno dal prossimo gennaio 2019 potrebbe arrivare un servizio di guardia di vigilanza notturna. Un servizio affidato ad una società privata e che scaterebbe insieme alla soppressione della portineria in orario notturno, oggi invece in funzione. Tanto che i Cobas parlano già di un ennesimo tentativo da parte dell'azienda di tagliare e ridurre i servizi dell'ospedale figlinese e chiedono l'immediata revoca del provvedimento. Apprendiamo come delegati RSU Cobas, scrivono Calò e Mangiola, che l'azienda Usla Toscana Centro attraverso il direttore di struttura Dottor Papani elimina a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 marzo dello stesso anno, salvo prosecuzione, il servizio pubblico notturno della portineria del presidio Serrestori appaltandolo e sostituendolo con un servizio privato di vigilanza notturna con postazione fissa. Una scelta sbagliata, dicono i sindacati, inutile e dannosa ai lavoratori, per i cittadini e per la sorte dell'ospedale per acuzie. I Cobas ricordano poi le chiusure alle ore 20 di servizi come le laboratori analisi, gli accessi alla pronto soccorso dal parte del 118 e della radiologia. Dopo tutto questo, adesso anche la portineria, dicono i sindacati, con l'unica variante che per giustificare l'ennesima chiusura, l'azienda utilizza il pensionamento di un portiere e invece che provvedere alla sua sostituzione, ha pensato bene di esternalizzare il servizio a figure che niente hanno a che vedere con il servizio in oggetto. L'azione, pensata a tavolino, concludono i sindacati, utilizza in modo strumentale il problema della sicurezza del presidio, oggetto da tempo di furti, vandalismi, aggressioni o intimidazioni, ai dipendenti attivando una discutibile vigilanza notturna con postazione fissa dentro il gabbiotto dei portieri.